Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Avete visto il titolo? Effettivamente c'è uno stato in Europa nel quale fino alla fine dell'anno sarà possibile acquistare le moto ad un prezzo più vantaggioso, quindi andare a pagare meno le moto nuove. Questo è grazie a cosa? Grazie al governo di quello stato che ha immesso liquidità e ha permesso di conseguenza un taglio sull'IVA. Quindi diciamo che hanno ridotto l'IVA di un 3%, questo permette agli acquirenti di auto nuove o di moto nuove di risparmiare un qualche centinaio di euro. Allora, non parliamo dell'Italia, questo era ovvio scontato. In Italia effettivamente qualche settimana fa si era un po' paventata l'ipotesi, l'idea di una riduzione dell'IVA, no? Questo per aiutare un pochettino i vari mercati in seguito comunque lockdown, no? Per, diciamo, incrementare di nuovo la ripresa nel settore auto e settore moto. Però è un'ipotesi poi che è avuta nel dimenticatoio, non ha avuto seguito, quindi ecco, in Italia al momento se ne è parlato, però non c'è niente di ufficiale in vista. Quindi noi al momento ci scordiamo comunque una riduzione sull'IVA. Parliamo ragazzi della Germania. Allora, in Germania, dal 1 luglio fino al 31 dicembre 2020, sarà possibile acquistare un'auto nuova, oppure una moto nuova, con una riduzione del 3% sull'IVA. Questo vuol dire un passaggio dal 19%, che di base già è meno rispetto a qui in Italia, a un 16%, quindi 3 punti percentuali meno sull'IVA. Diciamo che in soldoni parliamo di qualche centinaia di euro. Per esempio, su un mezzo da 10.000 euro siamo sull'ordine dei 300 euro più o meno, su un mezzo da 20.000 più o meno siamo sui 550-600 euro a grandi linee. Allora, è una cosa interessante, sicuramente non parliamo di grosse cifre, però comunque è un qualcosa, no? Cioè è un inizio, è un fare comunque, diciamo, cercare di dare attenzione da parte del governo a dei settori, al momento comunque un po' in crisi, no? Un po' in difficoltà. E quindi, secondo me, c'è comunque da alloggiare la cosa, no? Da alloggiare un po' la Germania, che insomma ha immesso liquidità e ha permesso questa cosa. Alla fine parliamo di poche centinaia di euro di risparmio per noi, però alla fine sono sempre soldi in meno piuttosto che soldi in più, quindi fanno sempre comodo. Allora, va detto che non tutti i produttori comunque sono costretti, obbligati ad applicare questa riduzione, questo taglio del 3%. Diciamo che come linea guida hanno quella di applicarla, però loro possono non farlo. Il settore moto, per esempio, l'hanno fatto al momento in pochissimi, questa riduzione, questo taglio. Parliamo di KTM e Triumph. Tutte le altre non hanno comunque aderito per il momento, perché alla fine ne hanno tempo fino a fine dell'anno, no? Poi quando vedranno che non riescono a vendere, usciranno sconti e poi applicheranno tagli sul Diva. Allora, KTM e Triumph, per fare un po' un esempio, per farvi un pochettino capire di che cifre parliamo, per esempio su una KTM Duke 790, che è comunque una moto che in tutta Europa vende parecchio anche in Italia, si parla di una riduzione di circa 300 euro, no? Quindi si passa da un 10.130 euro di base, costa meno comunque in Germania la moto, costa un 70 euro in meno rispetto a che in Italia, perché l'IVA da loro è più bassa che da noi, si parla di passare a 9.800 euro circa, quindi più o meno 300 euro. Invece su una moto come la KTM Super Adventure, la 1290, si parlerebbe di passare da un 18.000 a circa un 17.400 euro, più o meno sono 600 euro di risparmio, ecco, poi più si sale, più il risparmio ovviamente va ad aumentare. E questa cosa ovviamente è anche comunabile, si può fare la combo con le promozioni in atto. Per esempio c'è la promozione della KTM, che fino a fine mese permette comunque di portarsi a casa una moto gamma media 790, con 1000 euro in meno. È una cosa che c'è in Italia, ci dovrebbe essere anche in Germania, se ci dovesse essere è comunque possibile fare la combo, cioè mettere insieme le due cose, IVA più riduzione di 1000 euro. Se questa cosa comunque dovesse arrivare anche in Italia, ma non succederà mai, però facciamo finta che questa cosa l'hanno fatta in Italia, diciamo che ci si poteva portare a casa una 790, con circa 8.900 euro, perché da noi costa 10.200 euro la moto. Togliete un 3%, si va attorno ai 9.900 euro, togliete altri 1000 euro, si passa a 8.900 euro. Quindi con meno di 9.000 euro si portava a casa una Duke 790. Sono tanti soldi, però comunque sono un po' di soldi in meno rispetto a quanto costa normalmente e comunque andrebbe a costare meno rispetto alla Z900 e questo magari sapete potrebbe portare anche a un incremento delle vendite della 790, della Duke che è un'ottima moto. Però parliamo della Germania, quindi Germania non sono sicuro che ci sia questa promozione come hanno fatto in Italia. Diciamo che se ci dovesse essere si può fare la combo, 1000 euro più 3%. Una cosa interessante, purtroppo in Italia non arriverà, cioè dicevo comunque serve che il governo comunque immette liquidità, cioè che vada a tagliare l'IVA, oppure serve che i concessionari facciano degli sconti. KTM, al momento gli sconti vi ho detto già quali sono, vi ho fatto un video, parliamo di 600 euro in meno sulla gamma piccola, 125,390, 1000 euro gamma media, 6,90 e 7,90, 1500 euro su quella alta, l'alta gamma, 12,90 su Brad Venture e su Brad Venture R. E basta, quindi diciamo che questi qua sono gli unici sconti per la KTM e poi abbiamo la Suzuki, vi ricordo sempre che c'è la Smart Buy sul sito, le moto costano meno, fino, anche lei mi sembra, fino a fine luglio e basta, perché poi c'è la Kawasaki che ha qualche modello in sconto, Z900, poi abbiamo, sono moderato, lo Z125 e il Ninja 125 che vanno a costare un due 300 euro in meno, per la Kawasaki vi rimando al sito ufficiale perché lì ci sono le promozioni, non sono uguali per tutti, diciamo che su ogni modello c'è lo sconto differente, quindi in Italia ci sono pochi sconti e dobbiamo comunque aspettare che arrivino da parte delle case, perché da parte del governo sicuro non arriverà nessun aiuto, dicevo all'inizio, l'ipotesi comunque diciamo che si era ventilata, però poi è tutto caduto nel nulla, nel dimenticatoio, va anche retta una cosa però che comunque noi siamo ancora in negativo a giugno come vendite, siamo sotto rispetto all'anno scorso e quindi potrebbe starci che magari poco alla volta fino a fine dell'anno usciranno comunque le case con degli sconti interessanti, per esempio all'inizio, proprio all'inizio del lockdown è arrivata la Suzuki, è stata la prima, con gli sconti Smart Buy tipo la Katana 10.500 euro, GSX-S 750 che andava a costare 8.000 questi sconti qua, poi dopo qualche mese è arrivata la KTM con questi sconti 600 euro, 1000 euro, 1500 euro che sono pochi ma comunque sono soldi in meno e quindi entro a fine dell'anno le altre case che non riusciranno a vendere per forza di cose arriveranno con degli sconti, con delle offerte penso alla Yamaha, penso all'Aprilia, penso un po' a tutte queste case qua. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, lasciate un like se vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale YouTube e allo Instagram e nel backer ufficiale e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!